Con la primavera incominciano i mesi dell'anno più frequentati dai soci delle società canottieri di Cremona, che intendono aprire una piscina riscaldata in ogni centro sportivo già ad aprile. Questo consentirebbe agli atleti che attualmente si allenano nell'impianto natatorio comunale di tornare nelle società di origine, con notevole risparmio economico per le squadre. Spiega la situazione il presidente di Asso Canottieri, Mauriglio Segalini. La stagione si è aperta con delle temperature mediamente più alte del solito. E questo, per la seconda metà di aprile, dovrebbe garantirci l'apertura delle prime piscine, evitando di un consumo di energia elevato rispetto al riscaldamento dell'acqua per portarla ai 26-27 gradi canonici. I costi dell'energia restano elevati, ecco perché, al vaglio delle società rivierasche, ci sono diversi progetti di efficientamento energetico. Qualche struttura era già dotata di pannelli fotovoltaici, ma intende sostituirli con altri più performanti, come la Canottieri Leonida Bissolati, che a breve li monterà sul tetto della palestra Atleti. La Bissolati, inoltre, ha previsto l'installazione di una nuova centrale termica con cogeneratore. I lavori hanno preso avvio in questi giorni. La cogenerazione è un impianto che fiancheggia tutta la nuova centrale termica, che avrà caldaie, eccetera, nuove, e che produce attraverso il gas metano anche un quoziente importante per i consumi di elettricità. Perché, ripeto, i costi di elettricità e di acqua in questo momento sono più stabili, quindi abbastanza ancora alti, rispetto al costo del gas metano, che è un po' diminuito rispetto al secondo semestre del 2022. Questa cogenerazione, credo, ci permetterà di produrre il 50% in casa dell'energia elettrica che serve in futuro la società per tutti gli usi che ne facciamo. Il cantiere si concluderà in autunno.